Il Sistema Solare E voi siete tra i primi pionieri che vivono e moriranno lì. Benvenuti nel futuro, lontano dal pianeta Terra. Siamo nell'anno 2050. La Luna è già popolata da molti esseri umani che vivono sotto la sua superficie e in crateri coperti da una cupola che permette loro di vivere e respirare. Tra cent'anni, quando i miei nipoti andranno a trovare qualcuno sulla Luna o andranno lì a vivere, non abiteranno in strutture metalliche sterili e inerti nelle quali neanche noi vorremmo vivere. Viveranno in mezzo a parchi belli e ben curati con alberi alti 200 metri e saranno capaci di volare come gli uccelli. La vita, importata dalla Terra, sta cominciando ad attecchire su un pianeta dove non ha piovuto per quasi 4 miliardi di anni. Ora immaginiamo Marte. Lì la natura, come l'abbiamo trovata, è sterile, ma noi abbiamo l'opportunità di introdurre la vita. Quindi, quando penso a Marte, immagino un mondo bello e molto interessante che mi piacerebbe studiare approfonditamente. Ma quando immagino che su Marte possano esserci forme di vita, tutto acquisisce un significato più profondo, più interessante e più prezioso. In seguito, i costruttori delle città cominceranno a lavorare sulla superficie di Marte, creando una nuova casa per i coloni che avranno fatto il più lungo viaggio di sola andata della loro vita. Quando ci si stabilisce in un nuovo luogo come Marte e vi si istituisce un nuovo ramo della società, si ha l'opportunità di utilizzare le idee migliori e di abbandonare quelle peggiori. La gente che colonizzerà Marte non vorrà ritornare sulla Terra. Vorranno vivere su Marte e sviluppare lì il loro futuro, magari oltre, in un luogo ancora più remoto del sistema solare. Alla fine dell'estate del 1976, due sonde identiche, chiamate Viking, atterrarono su Marte. Per la prima volta nella storia, inviarono a Terra immagini dettagliate della superficie di un altro pianeta. Benché non avessero trovato le tracce della vita che stavano cercando, le Viking portarono a termine con successo diversi esperimenti sul suolo e sull'aria di Marte. Fu un trionfo scientifico. Tuttavia, Christopher McKay, un biologo della NASA, crede che la scienza dello spazio sia soltanto un modo per prepararsi a qualcosa di molto più importante. Si parla spesso dell'esplorazione dello spazio come se il suo unico obiettivo fosse scientifico. Da questo punto di vista, inviare navi spaziali con un equipaggio umano non è un progetto redditizio. Possiamo ottenere dati scientifici migliori con robot e sonde. Ma il punto non è questo. Per quale motivo ci interessano i risultati scientifici? Perché stiamo esplorando scientificamente lo spazio? Beh, io credo che sia parte di un'attività molto più ampia, di un progetto molto più ambizioso, di tentare di anticipare i futuri insediamenti umani fuori dal nostro mondo. Marte è il pianeta più vicino e dove sarà più facile compiere il nostro primo passo di colonizzazione. Non intendiamo inviare esseri umani su Marte per esperimenti scientifici, intendiamo inviare esseri umani su Marte. Uno dei loro compiti sarà anche fare rilevamenti scientifici, ma scriveranno anche poesie, grideranno, si attrabbieranno e faranno tutto quello che fanno gli esseri umani. La missione Viking fu progettata per durare soltanto tre mesi, ma i suoi moduli orbitali e di atterraggio inviarono un enorme flusso di dati per sei anni, incluse più di 50.000 fotografie che coprivano il 97% della superficie di Marte. McKay crede che perfino per lavori scientifici, robot come i Viking non debbano sostituire le missioni con esseri umani. Si parla di inviare il robot al posto di esseri umani per esplorare altri pianeti. Per me non è interessante. È come se per visitare Parigi mandassi una macchina fotografica per fare delle foto e quando la macchina fotografica ritorna sviluppassi le fotografie pensando, sono bellissime, sono andato a Parigi. Credo che l'esperienza dell'uomo sia parte della motivazione che spinge gli esseri umani a visitare altri mondi. Ma perché dovremmo stabilire colonie umane su altri pianeti? Robert Zubrin è un ingegnere spaziale che ha ideato un modo per inviare i primi esseri umani su Marte. Ma non vuole fermarsi. Per lui, Marte è nel ventunesimo secolo, la nuova frontiera, un luogo che attende di essere abitato da coloni mandati dalla Terra. La frontiera nella Terra è chiusa. Penso che a meno che l'umanità voglia arrivare a un'era di stasi, dobbiamo essere disposti a raggiungere una nuova frontiera e la nuova frontiera è lì fuori, nello spazio, su Marte. Colonizzare Marte è principalmente un atto di creazione. Creeremo un nuovo ramo della civiltà umana, un nuovo ramo della cultura umana. Non stiamo facendo questo per noi stessi, lo stiamo facendo per loro, lo stiamo facendo per gli abitanti di Marte. Tutto questo è possibile? Gran parte della tecnologia per portare a termine questo progetto fu sviluppata in circa dieci anni alla fine degli anni Cinquanta, quando degli animali vennero speriti in orbita su missili balistici. Questo scimpanze tornò sano e salvo, ma in quel periodo poco o niente si sapeva riguardo le possibilità di sopravvivenza nello spazio degli esseri umani. Agli inizi degli anni Sessanta il presidente statunitense John Kennedy credeva che il premio più grande del decennio fosse alla sua portata. Il treno per lo spazio stava per partire. Molti anni fa, al grande esploratore britannico George Mallory che morì sul monte Everest, fu chiesto perché voleva scalarlo. Rispose semplicemente perché è lì. Bene, anche lo spazio è lì e lo scaleremo così come la Luna e i pianeti. Nel 1962 Kennedy fece questo discorso all'Università Rice, ancora oggi riechegge. Perché quel traguardo servirà a organizzare e misurare il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità? Fu probabilmente il discorso politico americano più brillante del ventesimo secolo. Diretto dove più faceva male. Dobbiamo essere disposti ad accettare e portare a termine sfide come queste. Kennedy e la sua generazione erano disposti a farlo. Abbiamo scelto di andare sulla Luna. Abbiamo scelto di andare sulla Luna. Abbiamo scelto di andare sulla Luna entro dieci anni e come tutto quel che facciamo non lo facciamo perché è facile ma perché è difficile. Abbiamo scelto di andare sulla Luna non perché è facile ma perché è difficile. È un atto di fede e dimostra una grande capacità intuitiva. Non sappiamo a quali vantaggi andremo incontro ma lo spazio è lì e noi lo esploreremo. Il programma spaziale fu uno dei punti culminanti dell'ottimismo del ventesimo secolo. Un'inebriante miscela di tecnologia e audacia umana che fece sembrare tutto possibile. In primo luogo la Luna poi le stelle. Quali furono i benefici del programma Apollo? Certamente non soltanto di ottenere circa 50 kg di pietre lunari. Il vero beneficio del programma fu che tutta una generazione trovò l'ispirazione per iniziare studi scientifici. La possibilità di far parte della grande avventura spaziale di essere un pioniere. Lo so con certezza perché ero uno di loro. Avevo nove anni quando Kennedy fece il suo discorso la sua chiamata per inviarci sulla Luna. Fui uno dei bambini del programma Apollo. L'ambizione umana salì a bordo dei razzi più potenti mai costruiti. E altri bambini dell'Apollo facevano volare la loro immaginazione verso un nuovo futuro nello spazio. Bambini come Marshall Seager. Secondo me è il momento chiave che permise di pensare che l'uomo avrebbe potuto viaggiare nello spazio fu il primo volo orbitale attorno alla Luna. Quello mi impressionò in un certo modo più dell'atterraggio sulla Luna perché rappresentava il momento in cui i primi umani raggiungevano lo spazio esterno. Avevano abbandonato la Terra non era un semplice volo in orbita erano lì nello spazio profondo. Buon compleanno mamma! Io e la mia famiglia ci eravamo concessi un anno di vacanza visitavamo l'Europa a bordo di un furgoncino Volkswagen credo che fossimo la prima famiglia Yuppie e Hippie in tutta la storia. Alla vigilia di Natale del 1968 ci trovavamo sull'isola di Rodi il tempo era orribile che aveva tantissimo fuori era tutto buio. Eravamo rifugiati nel furgone ascoltando la radio che trasmetteva la cronaca di questi individui questi uomini i primi astronauti veri e la loro voce sembrava arrivare dalle profondità dello spazio. Io non fui educato in un ambiente religioso ma quando cominciarono a leggere il libro della Genesi eravamo lì ad ascoltarli alla vigilia di Natale voci che per la prima volta arrivavano dallo spazio esterno. in principio Dio creò il cielo e la terra e la terra era in forma e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque Dio disse sia la luce e la luce fu. Mi commossi veramente e qualcosa dentro di me mi disse che questo era il futuro non soltanto quello dell'umanità ma il mio futuro queste persone stavano parlando a me qui a Apollo 8 chiudiamo il collegamento augurando buonanotte buona fortuna e buon Natale Dio benedica voi e tutti coloro che sono sulla terra col decollo dell'Apollo 11 verso la luna il 16 luglio 1969 il monte Everest di Kennedy stava per essere conquistato appena 8 anni dopo aver annunciato l'intenzione di raggiungere la superficie della luna Houston qui base della tranquillità l'Aquila è atterrata questa volta sei stato veloce wow scusa Charlie bellissimo devo stare attento alla guida asseggiavo sulla luna nel felice felice mese di dicembre no maggio 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 è vero di nuovo a bordo andiamo è passeggiata che passeggiata gli astronauti dell'Apollo 17 abbandonarono la luna il 14 dicembre 1972 e lo slancio per portare l'uomo verso il resto del sistema solare si perse da allora nessuno è mai uscito dall'orbita della terra dovremmo già essere su marte se avessimo continuato il programma spaziale con lo stesso spirito del programma Apollo alla fine degli anni 60 saremmo arrivati su marte nel 1981 sapevamo di avere già le capacità per colonizzare la luna a quei tempi avevamo l'85% delle risorse necessarie per conquistare marte e distruggemmo tutti è come se Fernando e Isabella dicessero a Colombo al suo ritorno dal nuovo mondo e allora distruggi le navi nei licei e nelle università decine di migliaia di giovani speravano di poter soddisfare le loro ambizioni come astronauti per loro lo spazio era il futuro verso la fine della sua adolescenza Marshall Savage decise che si sarebbe arruolato nella successiva e più pericolosa avventura andare oltre la luna in realtà volevo solo andare su marte non mi importava essere il primo il cinquantesimo o il numero 5000 desideravo soltanto andare su marte sembrava un'ambizione nobile e fattibile a quei tempi agli inizi degli anni 80 era prevista la messa in orbita di una stazione spaziale la realizzazione di una colonia permanente sulla luna che ospitasse 100 persone era perfetto per i miei progetti ma la storia prese una rutta completamente diversa tutto il programma spaziale dall'Apollo in poi fu cancellato e non saremmo più andati in nessun posto quindi io non sapevo né dove sarei andato né come infatti finì in una specie di piccola università della Pennsylvania chiamata Swarthmore abbastanza deluso ma sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo il caso volle che Gerard K. O'Neill un ex allievo di Swarthmore tenne una conferenza proprio in quell'università al dipartimento di astronomia cominciò la sua presentazione con diapositive di colonie spaziali grandi come città e quello ovviamente riaccese la mia passione se andiamo indietro nel tempo credo sia stato verso l'inizio degli anni 90 che sono apparsi i primi habitat sferici di media dimensioni con un diametro di parecchie centinaia di metri e con una circonferenza di un chilometro e mezzo e il fatto interessante è che erano piuttosto simili ad alcuni luoghi che l'umanità ha considerato tradizionalmente belli come per esempio l'isola di Capri la città di Carmel in California o i quartieri più belli di Londra o qualsiasi luogo considerato architettonicamente affascinante Gerard K. O'Neill è stato un professore di fisica brillante e molto rispettato all'università di Princeton nel New Jersey sua moglie Tosha ricorda come la sua passione per le colonie spaziali cominciò durante le lezioni che teneva agli studenti che non avevano conoscenze scientifiche insegnava in un nuovo corso per studenti che non erano realmente interessati alla fisica ma a chi dovevano passare obbligatoriamente quest'esame che fu chiamato fisica per poeti mentre i primi uomini atterravano sulla luna nel 69 O'Neill cominciava quasi per scherzo a porre ai suoi studenti una domanda riguardo l'abbandono completo della terra a lungo termine la superficie della terra è veramente il miglior luogo per una civiltà tecnologica in espansione una superficie planetaria è il miglior posto per una civiltà in espansione la risposta risultò essere negativa Gerardo O'Neill voleva costruire le sue città spaziali in un'orbita tra la terra e la luna chiamò questo luogo l'alta frontiera prima di tutto però doveva riuscire a far prendere seriamente la sua idea impiegò 5 anni e successe quasi per caso durante una riunione a Princeton Gerry pensò che sarebbe stato bello riuscire a riunire tutte le persone interessate a questo argomento e Walter Sullivan che allora era il principale redattore scientifico del New York Times pensò che fosse una notizia sufficientemente interessante per essere pubblicata venne pubblicata nella prima pagina del New York Times cambiando radicalmente le nostre vite ma il suo sogno di vivere in colonie umane che orbitano liberamente nello spazio non andò mai oltre alcuni modellini O'Neill morì di leucemia nel 1992 a Gerry ovviamente sarebbe piaciuto andare nello spazio abbiamo sempre detto di volerci andare insieme desideravo aprire il primo ristorante spaziale è sempre stato il mio sogno probabilmente non si avvererà mai ma spero di riuscire ad andare nello spazio non sono troppo vecchia non si sa mai trent'anni dopo la prima proposta di O'Neill delle colonie spaziali in orbita emerse una nuova idea quella della terraformazione ovvero di modificare i pianeti per renderli adatti ad ospitare gli esseri umani Marshall Savage crede che il nostro desiderio di colonizzare altri mondi e di renderli simili al nostro sia radicato nella psiche umana gli esseri umani sono geneticamente innamorati della bellezza del nostro pianeta gli alberi i fiori le cascate d'acqua gli uccelli le farfalle tutto ciò ci commuove si tratta di un elemento da non dimenticare nella prospettiva delle future colonizzazioni spaziali secondo me la cosa che più stupirà la gente è quanto naturale e simile alla terra sarà questa forma di vita un vero Eden Savage crede che la luna possa sostenere grandi insediamenti ma come creare un mondo simile alla terra dove la gente possa vivere in un luogo tanto sterile e senza atmosfera come la luna un modo potrebbe essere di trasformare i crateri in biosfere isole autonome di vita sotto campane di silicio e di acqua ci sarebbe un'oasi di vita vegetale importata dalla terra le persone che vivranno nella gravità della luna sopporteranno solo una sesta parte del loro peso rispetto alla terra per questo motivo in queste cupole leggermente pressurizzate un sogno ancestrale potrebbe trasformarsi in realtà con un sesto della gravità terrestre un essere umano può volare con le proprie forze indossando delle ali di tessuto leggero potrebbe spiccare il volo dal ramo di uno di quegli alberi giganteschi potrebbe utilizzare le proprie ali e muovendo le braccia liberarsi nell'aria come un enorme volante through the air like a gigantic bird di un certo 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 imanismo che si è ecco in un certo che si di un certo La luna è ricca di materie prime come il ferro, l'alluminio e l'acqua agghiacciata in quantità sufficienti da convincere Marshall Savage che sulla luna si possano costruire industrie. Una volta installata una base permanente sulla luna, la crescita può essere molto veloce. Secoli di frenetiche attività, il ronzio incessante delle industrie, una specie di Chicago del futuro, il piccolo pianeta a staccano vista con i suoi abitanti che fanno crescere le sue infrastrutture come in un formicaio. Oltre la luna, il primo candidato per essere colonizzato è Marte, ma è un mondo difficile. La temperatura media è inferiore ai 25 gradi centigradi sotto zero e nei poli coperti di ghiaccio può scendere fino a meno 90 gradi. Ci sono prove però che Marte una volta fu un pianeta umido, più caldo, non molto diverso dalla Terra. Le cicatrici sulla sua superficie suggeriscono che una volta esistevano fiumi e mari. Dove è andata a finire l'acqua allora? Un po' si trova imprigionata nelle due calotte polari, ma potrebbe essere intrappolata anche sotto la superficie. Marte ha anche altri ingredienti che renderebbero possibile la terraformazione e non solo all'interno di alcune cupole, bensì sull'intero pianeta. Marte ha tutte le risorse necessarie per ospitare la vita sulla superficie, in diverse forme. Ci sono carbonio, anidride carbonica, acqua. Ora è congelata, ma penseremo a come scioglierla. C'è dell'azoto, luce solare. Tutte le risorse necessarie per sostentare la vita sono disponibili e chissà, perfino per renderlo un pianeta totalmente indipendente. La prossima sfida è di riscaldare il pianeta e fare che questi elementi ritornino nell'atmosfera uscendo dal loro stato congelato. Abbiamo imparato come farlo sulla Terra. Stiamo lanciando nell'atmosfera dei gas che provocano un effetto serra migliaia di volte più efficace della anidride carbonica, creando un manto attorno alla Terra che mantiene il calore. Sulla Terra probabilmente non è una buona idea, ma su Marte è proprio quello che dobbiamo fare per riscaldare quel mondo, per sciogliere i suoi ghiaccio e per rilasciare nuovamente tutti quegli elementi nell'atmosfera. Per creare quei gas sono necessari carbonio, idrogeno, cloro e fluoro. Tutti questi elementi potrebbero essere disponibili su Marte. Potrebbero essere estratti dalla superficie del pianeta, miscelati in fabbriche robotizzate e poi rilasciati in enormi quantità attraverso ciminiere. Metterebbero in moto un effetto serra autoalimentato. Le calotte polari si scioglierebbero e la superficie di Marte si trasformerebbe in qualcosa di molto simile alla Terra. Comparirebbero grandi oceani e laghi e l'atmosfera comincerebbe a diventare più densa e a cambiare. La temperatura media della superficie di Marte si eleverebbe da 25 gradi sotto zero ad alcuni gradi sopra lo zero. Riscaldandolo un po' in modo da avere acqua sulla superficie e un'atmosfera più densa, si potrebbero introdurre ecosistemi molto semplici, non molto diversi dagli ecosistemi oggi presenti nelle regioni artiche e antartiche. Le prime forme di vita vegetale a germogliare su Marte potrebbero essere delle alghe. Ma sarebbe soltanto l'inizio dell'inverdimento di Marte. I nostri calcoli indicano che Marte potrebbe riscaldarsi con un'atmosfera abbastanza densa in circa 100 anni. Sarà un processo molto efficiente, una volta intrappolata all'energia solare. E quando l'atmosfera sarà più densa e il pianeta sarà più caldo, potremmo introdurre forme di vita avanzate e più sofisticate. Su Marte si riprodurrebbe la storia evolutiva della Terra in modo molto più rapido, perché per cominciare si appoggerebbe sulla biologia terrestre. È possibile che se Marte fosse abbastanza caldo, probabilmente in 100 anni circa potrebbero svilupparsi veri boschi, boschi reali. Potremmo immaginare pinete come quelle che si vedono sui pendii delle montagne crescere su Marte. Per Christopher McKay sviluppare la vita su Marte è un dovere che spetta agli umani come unica specie intelligente. Penso che le forme di vita semplici o microbiche dovrebbero esistere su qualsiasi pianeta che abbia acqua allo stato liquido o che sia almeno lontanamente simile alla Terra. L'intelligenza credo sia un argomento più complesso. In realtà mi sono persuaso che l'intelligenza sia rara, forse unica, sulla Terra. Sarebbe un errore non utilizzare la nostra intelligenza e agire come qualunque animale. Qual è il nostro ruolo come essere intelligente di questa comunità e cosa possiamo fare per migliorare? Credo che la risposta sia quella di disseminare la vita trasportandola dalla sua origine qui sulla Terra e in tutti i luoghi. Siamo gli unici in grado di farlo. È un compito degno della nostra specie. Sarebbe come costruire piramidi e cattedrali. È qualcosa che potremmo regalare al resto dell'universo. Marte sarebbe come tutte le frontiere che gli esseri umani hanno raggiunto. Impegnativa, accogliente, pericolosa. Ma cosa potrebbe motivare una grande quantità di persone a intraprendere un viaggio che potrebbe durare un anno verso un pianeta freddo e lontano? Possiamo trovare una risposta nella storia recente degli Stati Uniti. Durante il XIX secolo negli Stati Uniti prese piede un'idea che fece spostare centinaia di migliaia di uomini e donne su carrozze e treni verso il West. Non fu unicamente per cercare fortuna. Capirono che avrebbero potuto far parte di qualcosa di magnifico. Pondare una nazione basata sui principi di progresso e libertà. Tutta quella gente desiderò farne parte. Quando sarà tecnologicamente possibile colonizzare Marte, cosa che accadrà tra breve, ci sarà un elevato numero di persone disposte a partecipare indipendentemente dalle difficoltà. Noi americani viviamo in un paese fondato da persone che volevano raggiungere nuove frontiere. Se smettiamo di credere in questo ideale, dimentichiamo gli ideali dei nostri avi. Questo è sicuro. Questo è l'inizio della decadenza, del declino, del crollo. È qualcosa che non possiamo permetterci. Robert Zubrin ha ideato un modo per trasportare i primi esseri umani fino a Marte in modo relativamente economico, conosciuto come Mars Direct. È un'idea che è stata accolta dalla NASA. Per esplorare Marte useremo la stessa tecnica usata dai pionieri sulla Terra. Viaggiare leggeri e vivere con le risorse della Terra. Con il primo lancio invieremo su Marte un veicolo capace di ritornare sulla Terra, ma senza nessuno al suo interno. In otto mesi di viaggio arriverebbe su Marte. Dopo l'atterraggio si azionerebbe una pompa che aspirerebbe l'aria di Marte composta da l'idride carbonica. Verrebbe fatta reagire con l'idrogeno portato dalla Terra, permettendo al razzo di rifornirsi di ossigeno e metano e di utilizzarli come carburante. Quindi su Marte troveremo ad aspettarci un veicolo completamente rifornito di combustibile pronto per ritornare sulla Terra. L'equipaggio successivo troverebbe il veicolo di ritorno già pronto su Marte e quindi non sarebbe necessario utilizzare quelle gigantesche navi spaziali galattiche da combattimento. Atterrerebbero su Marte vicino al veicolo di ritorno, lo utilizzerebbero come loro casa per un anno e mezzo e passato quel periodo entrerebbero nel veicolo, decollerebbero e tornerebbero direttamente sulla Terra. Abbandonerebbero la loro base su Marte e quindi a ogni nuovo viaggio si unirebbe alla base un'altra sezione e gradualmente costruiremmo il primo insediamento umano su un mondo nuovo. L'enorme distanza che ci separa da Marte fa sì che pochi rifornimenti potrebbero essere portati dalla Terra. Per questo motivo i primi coloni dovranno scavare per estrarre materiali da costruzione, immagazzinare acqua, fabbricare ossigeno e far crescere il loro cibo direttamente su Marte. Ben presto imparerebbero le tecniche per vivere utilizzando le risorse del terreno. Quindi avremo una situazione tra 50 anni da adesso in cui saremo in grado di essere autosufficienti su Marte e di raggiungerlo in modo relativamente economico. A quel punto credo che comincerebbe l'immigrazione su grande scala. Chi lo farà? Beh, potrebbero essere persone in cerca di avventura o rifugiati. Potrebbero essere membri di una setta religiosa alla ricerca di un luogo dove costruire il proprio mondo. Quando sarà possibile raggiungere Marte? La gente lo farà. Credo che 50 anni dopo più di un milione di persone abiteranno su Marte. Vorrei vivere vicino all'acqua, con vista sulle montagne. Per esempio, al bordo del bacino Hellas saremo vicini a una massa d'acqua simile ai Grandi Laghi o al Mediterraneo. Lì vicino ci sarebbe una cordigliera di montagne che si estende verso l'Occidente. Dalla sua casa nel nord della California lo scrittore di fantascienza Kim Stanley Robinson ha immaginato come sarebbe la vita su Marte. Ma l'ispirazione per i suoi romanzi arriva dalle immagini di terre desolate e aride trasmesse dalle sonde Viking. Mi interessai a Marte per il suo aspetto selvaggio. Mi piace passare il tempo in cima alle montagne o nei deserti dell'America occidentale. Quando arrivarono le prime immagini di Marte dalle sonde Viking, rimasi affascinato da quel paesaggio spettacolare. Pensai che fosse il luogo ideale dove accamparmi con il mio zaino. Le Viking rivelarono che Marte era il sogno dei turisti. La valle Marineris è un abisso lungo 4.000 chilometri e profondo fino a 8. Largo 200 chilometri e 10 volte più grande del Grand Canyon in Colorado. Il Monte Olimpo è un vulcano spento che si eleva a 25 chilometri sopra le pianure circostanti e quasi tre volte più alto del Monte Everest. Con tutta la sua varietà, Marte è oggi un enorme deserto vuoto. Deve rimanere così? Robinson prevede una battaglia ecologista tra coloro che preferiscono Marte rosso e intatto e quelli che lo vogliono verde e vivo. Il conflitto rosso-verde nei romanzi ha a che vedere come idea che ci sarà gente che si innamorerà di Marte come è ora e per la quale l'idea di renderlo simile alla Terra sarebbe un sacrilegio. D'altra parte sarebbe molto più facile vivere su Marte se lo modifichiamo per dargli un'atmosfera e renderlo più ospitale. Si formeranno le fazioni dei verdi e dei rossi e il conflitto sarà inevitabile. Prima o poi, Marte sarà letteralmente terraformato e la gente vivrà all'esterno così come sulla Terra. L'unica differenza sarà la gravità, un terzo di quella terrestre. Penso che i marziani del futuro si chiederanno perché ci sia gente che vuole vivere sotto la nostra forza di gravità come facciamo noi ora, dovendo sforzarsi tanto per muoversi invece di fare semplicemente un salto per salire da un piano all'altro del loro edificio come una gazzella o un kangaroo. Ovunque gli esseri umani scelgano di vivere sulla Luna, su Marte o più in là, una cosa è certa. Se ci rimangono permanentemente, il loro aspetto fisico verrà alterato a causa delle differenze nella forza di gravità, nella quantità di luce solare ricevuta e nella composizione atmosferica. Il solo fatto di occupare quei tipi di ambienti trasformerà la gente che ci abita in una specie quasi interamente nuova e diversa. Dopo una o due generazioni al massimo, per esempio, la gente nata sulla Luna potrà essere decine di centimetri più alta della gente nata sulla Terra. Loro potrebbero preferire di evitare di sopportare il peso di uno scheletro e di una muscolatura necessari per vivere sulla Terra e potrebbero pensare io vivo sulla Luna, visiterò la Terra solo attraverso un documentario olografico, sono un vero essere lunare. Queste persone saranno molto alte e molto magre, con una muscolatura minima e dopo un certo numero di generazioni i genotipi si saranno evoluti in una direzione diversa. Predire che cosa succederà tra dieci o venti generazioni è fuori dalla portata della scienza. Dovremmo avere una grande immaginazione anche per ipotizzare l'aspetto dei coloni più remoti e isolati. Ci stiamo dirigendo verso l'universo raccontato in Star Trek. In questa serie i protagonisti viaggiano per le galassie incontrando diversi tipi di alieni. Tutti però hanno due braccia, due gambe e magari delle specie di corna in testa. Beh, penso che tra qualche migliaio o milioni di anni la realtà sarà quella. La ragione è semplice tutte queste nuove specie avranno le loro radici sulla terra e a seconda dell'ambiente dove si saranno sviluppate seguiranno un percorso genetico diverso tutte con la stessa origine ma con sviluppi diversi come i vulcaniani o i clingoni. Stiamo per introdurre variazioni nella specie umana. La terra è diventata troppo piccola per mantenere la diversità della cultura umana. In natura la diversità è la chiave della sopravvivenza della specie e credo sia così che l'uomo manterrà e amplierà la sua diversità espandendosi per tutto il cosmo. Probabilmente l'esplorazione dello spazio è inevitabile. Stiamo parlando di esseri umani e della loro natura intrinseca di esplorare e conoscere. La vita potrebbe essere paragonata a un fuoco che deve continuamente alimentarsi e crescere per poter sopravvivere. allo stesso modo la vita deve espandersi verso nuove frontiere per continuare a esistere. Cosa caratterizza l'umanità? Qual è l'obiettivo di tutti i nostri sforzi? Qual è il punto comune a tutto ciò alle nostre religioni? Solo uno la ricerca dell'immortalità. L'immortalità delle divinità o l'immortalità di grandi gesti come la conquista del West o la colonizzazione di Marte. questo è molto più importante delle nostre vite terrile. È per questo che combatteremo. È per questo che moriremo. È questo che ci spinge ad andare nello spazio. Credo che l'unico modo di conquistare lo spazio sia renderlo redditizio. Se si desidera andare nello spazio per rimanere, ci deve essere redditizio. A Steamboat Springs in Colorado, Jim Benson sta pianificando come guadagnare denaro grazie allo spazio. Nel 1990 o 91 mentre leggevo il Washington Post vedi un piccolo articolo. Avevano trovato un asteroide, il Dorado. Risultò essere una palla solida di acciaio inossidabile con un valore stimato di 80 miliardi di dollari. pensai ma se questo asteroide vale 80 miliardi di dollari devo verificare se ce ne sono altri. Esaminando le vicinanze dell'orbita terrestre fino ad ora sono stati scoperti quasi 500 asteroidi. Di loro si sa poco ma tutti potrebbero essere immensamente ricchi di minerali. Gli asteroidi metallici mi affascinano perché contengono concentrazioni molto alte di oro e di tutti i metalli del gruppo del platino. Pensandoci bene però ci rendiamo conto che è eccessivamente difficile estrarli. Sarebbe come tentare di scavare una montagna di acciaio inossidabile. Benson si rese conto che alcuni asteroidi contenevano qualcosa di ancora più prezioso dei metalli preziosi il ghiaccio che potrebbe essere trasformato in acqua e idrogeno e fungere da combustibile per razzi nello spazio esterno evitando l'elevato costo di portare il combustibile dalla terra la colonizzazione dello spazio sarebbe un'impresa più realistica. Quindi Benson fondò un'azienda per costruire una piccola sonda progettata per trovare il ghiaccio negli asteroidi. Voleva qualcosa che fosse sicuro ed economico. Non stiamo facendo niente di nuovo con la nostra sonda ispezione asteroidi tutta la tecnologia che stiamo utilizzando è già stata utilizzata prima è tecnologia di penultima generazione il risultato è più attraente per l'investitore perché è più economico. Lo faccio per aprire lo spazio all'umanità e anche per guadagnare del denaro. Ciao Jim Benson le aziende commerciali nello spazio possono guadagnare denaro realizzato il nostro progetto tutti vedranno che non era un'utopia e questo amplierà la visione del futuro per tutta la gente che desidera lasciare la Terra costruire colonie spaziali estrarre minerali dagli asteroidi e vivere sulla Luna o su Marte. Jim Benson fece la sua prima fortuna con il commercio di computer è convinto che la sua seconda fortuna arriverà dallo spazio. 20 anni fa all'inizio della rivoluzione di personal computer nessuno sapeva che cosa stava succedendo nessuno sapeva chi sarebbero stati i vincitori o i vinti ma oggi abbiamo moltissimi miliardari grazie al computer ora siamo nella stessa situazione con la commercializzazione dello spazio può succedere qualsiasi cosa e qualcosa sicuramente accadrà. Fino a dove gli esseri umani si potranno spingere per colonizzare lo spazio i veri limiti potrebbero non essere basati sulla tecnologia bensì nella nostra mortalità semplicemente potremmo non vivere abbastanza a lungo per arrivare oltre il nostro sistema solare ma persino questo limite potrebbe essere superato se potessimo progettare qualcosa che viaggi abbastanza veloce non so dove sia la frontiera dei limiti umani credo che viaggiare verso le stelle sia possibile conosciamo tutta la scienza di base che è necessaria per costruire una navicella interstellare sappiamo che le reazioni di fusione nucleare ci forniranno la forma di energia che una volta superato l'ostacolo di come produrla ci permetterà di sviluppare navi spaziali capaci di raggiungere forse un decimo della velocità della luce ma persino con una nave spaziale che viaggi a quella velocità sarebbero necessari più di 40 anni per raggiungere il sistema stellare più vicino penso che ci sia un limite realistico nei termini di ciò che rende fattibile un viaggio interstellare vediamola così la massima velocità raggiunta dagli esseri umani fu durante il programma Apollo a quella velocità sarebbe necessario un milione di anni per raggiungere la stella più vicina quindi è necessario viaggiare a velocità molto più elevate perché altrimenti sarebbero necessari millenni per raggiungere il sistema stellare più vicino alcune idee arrivano dalla fantascienza costruire navi stellari mondi giganteschi con migliaia di persone che vivono in comunità autosufficienti per migliaia di anni seguendo questa strada scommetto che quando queste navi raggiungeranno la stella più vicina troveranno che la abita una nuova civiltà una civiltà popolata da coloro che rimanendo sulla terra sono riusciti a costruire un razzo ad antimateria o qualcosa in grado di raggiungere la metà della velocità della luce avrebbero raggiunto la stella in circa otto anni avendo tutto il tempo di costruire una nuova civiltà mentre le navi gigantesche erano ancora in viaggio e quando gli abitanti della nave sbarcheranno sulla stella verranno visti come curiosi esseri del passato ideali per un'intervista alla tv ma niente di più quindi se non riusciamo a raggiungere velocità elevate è meglio rimanere a casa nostra dal 1969 al 72 soltanto pochi eletti hanno abbandonato la terra sei missioni Apollo atterrarono sulla luna portando solo 12 astronauti statunitensi oh che posto che vista vero John è assolutamente irreale e se la facessimo rotolare e anche per scherzo se lo facessimo nel Texas occidentale sotto troveremmo un serpente a sonagli i ricordi di un trionfo del ventesimo secolo ossessionano ancora coloro che si aspettavano e speravano di arrivare molto oltre è come se tutto fosse successo ieri ma queste immagini hanno un quarto di secolo no lo attacca papà l'umanità intraprenderà nuovamente questa strada questa volta la percorrerà fino in fondo le stelle sono alla nostra portata se non ci arrendiamo adesso e se decidiamo di diventare una civiltà che viaggi nello spazio saremo saldamente radicati nell'ambiente stellare ci saranno 50 civiltà che si evolveranno nel cielo cammineremo la sera sulla terra e guardando verso l'alto chiameremo con il proprio nome luoghi fisici stelle e persone che li abitano la vera geografia del cielo notturno e tutto questo accadrà nello stesso lasso di tempo che ci separa dalle sonde viking più di vent'anni dopo essere arrivate su marte le sonde viking furono fatte tacere per sempre da gigantesche tempeste di polvere se la colonizzazione umana dello spazio non avverrà le sonde viking si trasformeranno in monumenti solitari in memoria di un sogno fallito l'umanità tra le stelle per questo siamo nati ed è lì dove andremo d'accordo Bobo ho i miei ferri del mestiere vieni fuori e salutami abbiamo una bella vista di S4BN della Terra contemporaneamente cercherò di fare una foto per te questa trasmissione vi arriva approssimativamente da metà strada tra la Terra e la Luna ci rimangono poco meno di 40 ore per raggiungere la Luna aria di sfida eccolo ce l'hai lì un vasto e solitario tipo di esistenza proibita per l'espansione del nulla la felicità della pancetta per fare colazione ehi non te le mangiare tutte Houston la bellezza di questo posto è assolutamente incredibile non riesco a vedere il fondo e sono il più vicino possibile al bordo davvero arancione davvero riesco a vederlo da qui è arancione ci hanno detto che Babbo Natale esiste di questo posto Grazie a tutti.